ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerò i foglietti illustrativi dei parafarmaci più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo il parafarmaco l'acri complex fb vision spa ultimo aggiornamento 16 maggio 2022 immagine l'acri complex a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso descrizione e caratteristiche avvertenze componenti e ingredienti a cosa serve l'acri complex è un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi per oftalmologia altri lenti a contatto vedi y 21 03 09 è commercializzato in italia dall'azienda fb vision spa informazioni commerciali titolare fb vision spa concessionario fb vision spa categoria di appartenenza dispositivi per oftalmologia altri lenti a contatto vedi y 21 03 09 forma farmaceutica soluzione confezioni l'acri complex soluzione oftalmica 10 ml indicazioni l'acri complex marchio registrato grazie alla sua azione lubrificante protettiva idratante lenitiva e antiossidante dei suoi componenti consente di trattare i sintomi della secchezza oculare anche come coadjuvante in presenza di irritazione e infiammazione provocata da condizioni ambientali o da stress meccanici inoltre l'acri complex marchio registrato risulta utile nel promuovere i fisiologici processi di riparazione corneale e supporta il ripristino delle terminazioni nervose corneali alterate in corso di secchezza oculare modalità d'uso instillare una o due gocce in ciascun occhio 3 4 volte al giorno o secondo parere del medico il prodotto può essere utilizzato con lenti a contatto indossate descrizione e caratteristiche l'occhio secco è una patologia della superficie oculare piuttosto frequente dovuta varie cause e caratterizzata da alterazioni e instabilità del film lacrimale infiammazione e lesioni della superficie oculare anomalie delle fibre nervose della cornea che si accompagnano a vari sintomi come bruciore sensazione di corpo estraneo visione offuscata fotofobia l'acri complex marchio registrato e una soluzione oftalmica lubrificante protettiva idratante lenitiva e antiossidante contenente glicopro marchio registrato un complesso multimolecolare a base di proteine glicosaminoglicani solforati e non solforati veicolato da una base mucinica costituita da idrossipropilmetilcellulose hpmc i glicosaminoglicani in particolare costituiscono una parte importante del glico calice della superficie cellulare e possono rappresentare dei ligandi per molte molecole come fattori di crescita citochine chemochine che modulano la risposta infiammatoria l'acri complex marchio registrato contiene pertanto una tripla componente mucinica insieme a una componente mucoproteica e una proteica ad azione lubrificante idratante antiossidante protettiva che risulta utile nel trattamento della secchezza oculare anche come coadiuvante in presenza di irritazione e infiammazione provocata da condizioni ambientali o da stress meccanici l'acri complex marchio registrato inoltre favorisce i fisiologici processi riparativi a livello corneale e supporta il ripristino della funzionalità delle terminazioni nervose corneali che diminuisce in caso di sindrome dell'occhio secco la soluzione oftalmica zero contenuta in un flacone di tipo tecnologico che consente di evitare l'uso di conservanti nel prodotto e permette un'agevole erogazione di tutto il volume di liquido avvertenze lavarsi accuratamente le mani prima di utilizzare il prodotto non utilizzare in caso di allergia e ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto non toccare la superficie oculare con il beccuccio contagocce richiudere bene il flacone dopo l'uso non utilizzare il prodotto dopo 28 giorni dall'apertura non usare il prodotto dopo la data di scadenza somministrare il prodotto almeno 5 minuti prima o dopo la somministrazione di altri prodotti per use topico oftalmico conservare il prodotto a temperature compresa tra 5 t e 25 t in caso di reazioni adverse interrompere l'utilizzo e contattare uno specialista non ingerire tenere lontano da fonti di calore tenere fuori dalla portata dei bambini non usare il prodotto se la confezione appare danneggiata componenti e ingredienti glicopro 10 per cento hp mc 0,2 per cento acido borico 0 e 25 per cento sodio tetra borato 003 per cento sodio cloruro 0,810 per cento acqua depurata cubi a 100 ml fonte codi fa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato grazie per avermi seguito